un'ora super solare ben trovati ben trovati e ben trovate un'ora straordinariamente solare perché con estrema correttezza dopo un anno che ci rincorrevamo perché lui di cose ne fa veramente tante finalmente è qui è in studio è con noi è un attore straordinariamente caro a tutti noi perché perché è sinceramente bravissimo e lui alessio boni e grazie come sempre al nostro matteo forino eccolo qui bravo 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 l'ho voluta dire questa cosa perché perché un anno ci torno una volta a settimana perché c'è l'autostima che sale in automatico dopo un ingresso così a casa non deve andare merito però allora succede che alessio boni non eravamo in contatto da qualche mese aveva avuto un anno come l'anno che sta vivendo ora è arrivato il messaggio ma io vorrei adesso ci sono passo per roma e questa si chiama correttezza alessio certo ti ho detto che quando passavo dalla capitale se avevo tempo sarei passato volentieri poi a volte tu non registri ci sono assolutamente ma strepitoso tu sei strepitoso punto e basta andiamo non che punto e basta inizia tutto ora figuratevi allora intanto la tua bravura quest'anno ti porta dove tra teatro cinema fiction allora strada di casa terminata partirà un film per la rai proprio un film una puntata diciamo un film un film unico non sono non è una serie su enrico piaggio su grande grande piaggio che ha inventato la vespa sia proprio con coradino da scanio che questo ingegnere ne parlano due secondi abruzzese che hanno inventato questa meraviglia che in giro ancora adesso per il mondo tramite dei volani che erano rimasti praticamente abbandonati ed erano questi motorini quelli d'avviamento per poter far partire le eliche dei degli aerei non sapevano più cosa farne era un 98 centimetri cubici e si sono inventati la meraviglia che ancora adesso c'era il mondo allora la meraviglia di inventarsi e non lo si inventa sia talento non ci sono dubbi si studia però sia anche il coraggio di inventarsi la carriera di attore ha fatto sì che tu un po come signor piaggio nel trovare lavori i più strani dal piastrellista babysitter i pony express l'animatore in un villaggio turistico il poliziotto tu sei stato tante cose insieme ma avevi un'unica idea nella testa al diventare attore no non è così paola io non ero proprio venivo da un paesino della provincia di bergamo dove il mio padre era piastrellista mio cugino piastrellista mio fratello piastrellista mio zio piastrellista tu non puoi scegliere dove nascere fai il piastrellista e non c'è niente ma ci mancherebbe anzi guadagnano pure bene diciamo non mi piaceva facevo la ragione in riesce reale non mi piaceva facevo piastrellista non mi piaceva mi restava stretto il pensiero del del paese cercavo qualcos'altro e la frase bellissima che disse benigni quando vinse l'oscar vi ricordate quei tre oscar magnifici per la vita è bella disse una frase disse tante cose belle ma una frase mi rimase particolarmente impresse disse ringrazio i miei chiusi a dire che il mio padre è un povertà ma non ti dico di soldi ma anche di ricchezza interiore rende audaci e tutti e rifori le unghie perché ti senti disadattato non ti senti nel posto giusto ma non mi faceva sognare quel posto io sono andato a cercare dove potevo sognare e l'audace allora ho fatto di tutto ho fatto il poliziotto potevo diventare serpico potevo stare dentro e far poliziotto non mi sono andato in america non mi ho fatto l'animatore turista ho fatto il lavapiatta e ho fatto il ponte poi dopo una sera mi fermo a roma avevo 21 anni non sapevo neanche cos'era il teatro tant'è vero che questo mio amico che ha detto guarda se mi ha avanzato un biglietto di mia cugina che non viene andiamo a teatro a teatro come a teatro è che devo prendere la giacca e la carvatta ma che dai andiamo al sistima al sistima cosa? zero entro e vedo la gatta cineorentola di roberto de simone un genio assoluto la prima edizione quella con beppe barra e isa daniele io lì sai io li chiamo gli sgrisoli è un termine bergamasco ma è una via di mezzo tra brividi ed emozioni che si concentrano nel cervello mi si è scopercato la testa io dico ma io voglio fare questo ma lascia stando vai io voglio fare questo poi io parlavo anche così quindi questi io voglio fare questo qua era una roba che non si poteva sentire mi prendevano in giro lontano un miglio anche mando mando vai ma lascia stando io voglio sono andato a cercare l'accademia d'arte drammatica via vincenzo bellini 16 non sapevo neanche dove era entro dentro ma guarda che a ottobre mi hanno detto dove va cioè deve passare l'anno non sono più tornato a casa sono rimasto a Roma staccato un cedulino all'università della sapienza eravamo in cinque talenti perché davano a 200 mila lire la stanza fatto il cameriere da lando fiorini e lo ringrazio sempre perché è stato come un secondo padre per me mi ha accudito e mi ha accolto e poi ho tentato all'accademia e i bergamaschi un po sono così nelle scelte importanti nero o bianco mi prendevano la scuola più importante d'italia avrei fatto l'attore non mi prendevano sarei tornato a casa avrei fatto probabilmente a milano psicologia perché mi interessava ma hanno pigliato e sto qua ma è stato un caso allora questa del caso è l'unica che io non gli passi perché intanto grazie a quella cugina che non è andata a teatro quella sera signora dovunque lei sia grazie mi raccomando sappia che hai il ringraziamento da parte di tutti noi perché se non ci fosse stato quella sera l'incontro a teatro ma pensa se avessi visto anche uno spettacolo brutto scusate ci sono anche dei spettacoli pesanti è stata tutto insomma una roba che mi avrebbe l'universo mai più amava c'è gente che va a teatro prima volta non ci torna per anni perché rimane scioccato però non si chiama alessio boni e succede che poi alessio riesca a realizzare quella capacità di essere capace di essere chiunque mi spiego meglio buono non esiste uno più buono di te non esiste un eroe più eroe di te non esiste più più limpido eroe di te quando decidi di essere cattivo o un infame o spigoloso più che cattivo spigolosamente spigoloso caspita uno che ti conosce dice ma come fa semplice sei più bravo mi piace da morire il mio lavoro ti dà l'opportunità di scandaliare proprio i sentimenti umani il calidoscopio proprio dell'umanità se tu sfrugugli dentro di te paola che sei una persona che ti conosco benissimo non c'è bisogno di tessere lodi perché lo sa tutto lo studio ma di un certo rigore di una certa unestà se tu sfrugugli te ce l'hai anche tu la tua cordicina malefica ma rimane se data dal 90 per cento del resto della tua paola non fai l'attrice in questo momento fai la presentatrice non la sfrugugli ma se tu la lavori la lavori la lavori la lavori posso farlo anch'io l'hitler che è in te no perché ti esce no 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 e lo puoi anche rappresentare ma credimi guarda che è un lavoro enorme per farlo per un attore poter rappresentare itler non pensare non è un avvallo alla malvagità è poter completamente dimenticare come ha fatto il grande bruno ganza dimenticare alessi buoni entrare in una performance spaventosa di uno degli orrori più grossi che abbia mai subito la storia e te per un attore incumiabile una roba del genere magari perché tu non lo farai mai perché non sai mai quella cosa lì non potrai mai essere quell'orrore lì ci mancherebbe però lascia stare però devi saperlo devi andare a c'è anche pericolosità di psicosi perché bruno ganza ci ha impiegato quattro mesi a ritornare se stesso ed è andato anche in l'analisi fuori dal film cioè devi essere equilibrato e sapere dove toccare perché se no il troppo stroppia puoi veramente scivolare e basta un niente che vai fuori ma in corto circuito è pericoloso ma nello stesso tempo affascinante se io adesso faccio un test e chiedo alle signore in studio ma chi di voi vuole fuggire con alessio boni guardatelo eccolo la oltretutto in tutta la sua bella bellezza verrebbero fuori delle risposte e quindi mi fermo e ci vediamo tra un attimo nel frattempo ragione sulla cattiveria allora il grande meraviglioso alessio boni ospite allora solare che applauso anche io con tutto il piacere possibile mi davano del pazzo ma l'importante è credere nei propri sogni questa è una tua frase è bella bellissima c'è una frase bellissima di don quichotte che dice a sancio panze che dice fra tutte le virtù la più importante ricordati sancio è il coraggio in particolar modo quello di cui non si parla mai essere fedeli ai propri sogni soprattutto quelli di giovinezza quanti di noi hanno avuto dei sogni meravigliosi a sette anni dieci anni abbandonati completamente ma anche dico sogni normali comunque deve diventare che ne so boh astronauta o non lo so einstein o qualcosa altro un altro no anche magari diventare uno che suona bene la chitarra uno che suona il sax uno che vuole cantare abbandonati completamente perché la vita sociale questi 157 paesi considerati civili l'occidente il terzo più importante del mondo ci impegna è una maria e devi diventare una professione pochissime persone quando entri in classe ti dico cosa voglio diventare da grande ti rispondono un uomo una donna ti dicono io l'architetto io il poliziotto io il ballerino io lo sanno nessuno ti risponde io voglio diventare un uomo io voglio diventare una donna perché diventi qualcuno in questa società nel momento in cui sei un professionista stimato e rispettato io adoro e continuo a sottolineare che sono degli eroi in ombra gli insegnanti perché sono coloro che forgiano una società prendono in mano dei bambini da sei anni in poi e con uno stipendio che tutti quanti sappiamo non c'è bisogno di dirlo forgiano l'umanità e parlano a degli esseri umani a questo bambino eccolo là col farfallino che odiavo il farfallino a questo bambino in foto a sinistra col farfallino con mio fratello Marco quanto sono stati importanti gli insegnanti per te per questo bimbo quanto sono stati importanti io sono stato fortunato te lo giuro sono stato fortunato ho avuto dei bei genitori lo so che tutti amano i genitori però sono due cose che non puoi scegliere dove nascere e in quale famiglia puoi avere anche dei genitori pessimi ma li amerai per tutta la vita anche se sono pessimi non li hai scelti non puoi sceglierli io ho avuto una madre, un padre ti posso garantire di un'onestà, di una rettitudine una nonna maddalena che mi ha dato degli insegnamenti anche in bergamasco antico ma mi insegnava delle cose straordinarie poi c'è una frase bellissima che è davvero la vita e l'arte degli incontri poi ho beccato un maestro che si chiamava Andreas Rallis che non significa nulla per nessuno di voi per me significa tutto perché parte tutto da lì a 21 anni, 22 anni mi ha preparato per entrare all'Accademia d'Arte Drammatica e mi ha dato un'iniezione di fiducia che a 20 anni tu non hai magari puoi avere anche un barlume di talento ma non hai la fiducia in te stesso non sai chi sei non sai se parli bene non sai come fa mi ha insegnato mi ha detto di andare a danza perché ero troppo rigido di fare educazione della voce mi ha detto di fare l'addizione e gli ho detto perché? allora mi ha registrato e io mi sono sentito la prima volta e ho detto ma io parlo così? ma io stia faccio schifo era una cosa terrificante e piano piano mi ha proprio introdotto nell'amore della materia e ho capito che Stanislavski non era il centroavanti della Russia ho capito tante di quelle cose che poi ho tentato in Accademia e voilà e mi hanno preso ma se non c'era lui se non c'era Orazio Costa Giovangigli se non c'era il signor grande Carlo Lizzani la signora Cavani Marco Tullio Giordana Streller Luca Ronconi Peter Stein io non sarei quello che sono perché devo molto a tutti questi maestri e Alessio Boni tra le altre cose e ora arriviamo al Don Quixote attenzione anzi partiamo dal Don Quixote prossimo 16 e 17 novembre protagonista e regista del tuo Don Quixote è Teatro Civico della Spezia e dal 19 al 21 novembre al Teatro Chiabrera di Savona in tournée fino ad aprile finché non sarai a Roma siamo in prova infatti adesso e grazie quindi a maggior ragione del tuo tempo qui con noi essere insomma quel Don Quixote ti somiglia per un motivo perché è leale e onesto perché è trasparente perché è la Greta Thunberg che tu prima che di altri hai identificato come la capacità di saper combattere per qualcosa in cui si crede tu sei uno che combatte deve fare un personaggio insomma io ho visto nascere il Caravaggio di Alessio Boni e salutiamo il maestro Renzo che ci ha fatto conoscere poi assolutamente e non soltanto essere Caravaggio ma lottare tutti i giorni per riuscire a fare quei duelli di spada con tutta la grinta con tutta non è solo essere attori Alessio non ti sto facendo la cornice d'oro intorno è essere persone che ogni giorno sono Don Quixote contro i mulini a vento ogni giorno devono lavorare su quel coraggio che tu hai ogni giorno sono stato abituato a mettere giù le piastrelle e a guadagnarmi la vita metro per metro e quindi te li devi guadagnare ed è giusto così non ti devono regalare niente a nessuno è inutile andare lì e fare Caravaggio e fare sei duelli e farlo fare allo stuntman sarebbe facile allora ho fatto quattro mesi mi sono spaccato in due ma ho voluto farlo io sì è lui è così è così mi sto perdendo allora ci sono c'è uno spettacolo uno spettacolo che porta in sé due numeri potete giocarveli spettacolo 66-67 teatro con Omar Pedrini i testi sono di Alessio Boni e di Nina Verdelli che è una mia compagna che è una bravissima giornalista di Vanity Fair e la tua compagna beh è bella anche questa cosa insomma sì è bellissima è tutto in famiglia ci siamo sì perché tra l'altro Omar è uno di famiglia oramai ci siamo beccati sette anni fa è stato un caso noi ci seguivamo da tempo perché Omar è di Brescia i Timoria li conoscono tutti quindi noi per noi che siamo di Bergamo dall'altra parte della sponda del lago di Zeo erano già un fatto li conoscevamo eccetera linea d'aria saremo 15 km quindi proprio vicini però ci siamo seguiti lui ha visto la meglio gioventù io ho seguito i suoi successi Sanremo e quant'altro poi sette anni fa andavo in giro con il visitatore con Alessandro Haber quello spettacolo a mio avviso meraviglioso sul testo di Freud e Dio eravamo a Rimini finiamo lo spettacolo andiamo a cena stiamo andando a casa e vediamo Omar Pedini in concerto fermati fermati lui lo conosceva entriamo sentiamo le ultime due o tre canzoni perché era l'una di notte figurati lui mi vede ma sai ti incontri per la prima volta non ti eri mai visto e non è che ci conosciamo ci riconosciamo mi abbraccio ci facciamo dei complimenti a vicenda da lì non ci siamo più mollati ci siamo scambiati i numeri io conosco la sua famiglia lui la mia lui viene a vedere i miei spettacoli io vado a vedere i suoi concerti e io ho detto davanti a un bicchiere di vino rosso perché è un gran gourmand una volta mi disse porca miseria ma quante persone che cantano e ballano non sanno il significato di di Bob Dylan piuttosto che di My Way che sono delle persone che stanno morendo e le mettono ai matrimoni ballano magari ai battesimi eccetera e infatti quanta poetica si perde io ho detto sarebbe bello se io con testuali leggo dei testi che hanno fatto la storia in italiano le spiego alle persone e tu le canti bingo due anni dopo è partito lo spettacolo per nostra fortuna sempre io in realtà io sto guardando Alessio Boni che si racconta io non sto non sto facendo nient'altro che questo abbiamo due minuti ancora sì progetti di solidarietà in Italia contro il maltrattamento infantile progetti di solidarietà nel mondo penso alla cooperazione sviluppo che ti ha visto tra i protagonisti andando Cesvi andando sul posto non è soltanto è come il duelli di Caravaggio non faccio una fotografia e accanto si mette la richiesta di aiuto che già sarebbe qualcosa ci vado vado a vedere credo proprio faccia la differenza Paola tu puoi leggere mille libri sul Giappone ma se non vai una volta in Giappone non potrai mai sapere il sapore del Giappone e lì senti l'odore guardi gli occhi senti proprio le circostanze che non arrivano te le sedimenti te le porti qua e ti resetti completamente per un po' di mesi dura Paola poi dopo noi rientriamo nella ruota del cricetto e quando sento delle lamentele che abbiamo in Italia mi viene da ridere la gente che si lamenta perché l'interno della macchina non è in pelle con l'ormogano come volevano la cosa che non è abbinata la permanente che non ha il ricciolo queste cose qui quando vieni da lì ti ribalta tutto cambiano e allora per me è una ricchezza perché è uno studio antropologico di una persona che non esiste più nel paese occidentale noi siamo strutturati io sono strutturato ma anche tu sei strutturata ci spogliavo solo forse nelle nostre camere di tutta quella corazza ma che ci serve per istinto di sopravvivenza nei confronti di tutta la società che ci circonda da lì tu ritrovi l'uomo loro non sanno chi sono non sanno minimamente chi sono o addosso alla divisa dell'Unic di Save the Children del CESVI di Medici Senza Frontiere quello con cui vado io posso andare con tutti perché più arrivano soldi e meglio è e perché serve e lì ti rapporti ti raffronti con verità e si sentono che sei finto non ti si rapportano no puoi essere il presidente della repubblica puoi essere il più grande attore del mondo non gliene frega non ti guardano mentre e sai quanto è importante questo per un uomo io so che è importante che un uomo per una donna Alessio Boni di tutte le cose che potesse fare abbia scelto di essere Alessio Boni che noi conosciamo non soltanto per la grandezza nella recitazione ma perché e questo sono tra i tantissimi fortunati che lo conoscono un po' di più lo posso certificare perché lui è un grande uomo dentro e poi è lo splendore che tutti conosciamo fuori basta finita devo chiudere qui è veramente un'ingiustizia lo so va bene fa una cosa vieni con me vieni con me accompagnami qua cominciamo a stare bene qua qua ecco c'avevo tremila cose da dirti vuol dire che ti aspettiamo deve tornare deve tornare ci abbraccio così volta ci abbracciamo così lo so in questo momento cosa state pensando lo so mi odiate ma va bene lo stesso sai quanto mi odiano a me sta zitto ma la volta pagina Alessio Poli meraviglioso ciao